Abbiamo superato da un minuto il quarto d'ora di gioco di questo primo tempo, Taranto 0, Catanzaro 1, decide il gol di Sunas, giunto al decimo minuto. Brighenti, Martinelli, ancora Sunas che scambia il tiro e il gol! Sono due! 2 a 0 per il Catanzaro, il gol è di Biasci, Tommaso Biasci porta due alle reti per il Catanzaro e per il Taranto, è davvero nottefonda in questo momento. 17esimo minuto, 2 a 0 per il Catanzaro, un Catanzaro che ha cominciato davvero con il piede pigiato sull'acceleratore. Buona la manovra di Sunas, sembrava di rivedere quasi la rete dell'1 a 0, però invece di incrociare il sinistro ha ceduto la sfera alla corrente Biasci che da quella posizione non ha avuto alcuna esitazione né difficoltà a battere l'estremo difensore Tarantino Antonio Russo. 2 a 0 per il Campobasso e siamo solo al 17esimo minuto, anzi siamo entrati adesso nel 18esimo di questo primo tempo per il Taranto, la salita si fa ancora più ripida.